Musica Finalmente parte il campionato di Serie A 2011-2012, si inizia con la seconda giornata dopo che la prima non giocata per lo sciopero dei calciatori sarà recuperata in data da destinarsi. La prima partita si disputerà nell'anticipo di venerdì sera al Meazza tra i campioni d'Italia in carica del Milan a 1,60 per Better che partono con i favori del pronostico e la Lazio a 6 di Klose e Cisse. Il gioco dell'otto partecipa al decimo anniversario dell'attacco alle torri gemelle offrendo la prima assoluta italiana di Rebirth, un film e documentario realizzato sul Gran Zero per ricordare l'11 settembre e onorare le sue vittime ma anche i suoi eroi. L'iniziativa rientra all'interno di September Concert della Tre Giorni di Musica e Mostri organizzata a Roma dall'Associazione Culturale e la Compagnia per la Musica in Roma. L'iniziativa rientra all'iniziativa. L'iniziativa rientra all'iniziativa. L'iniziativa rientra all'iniziativa.